iscriviti al canale per un divertimento senza fine il ballo di cristal ragazzi e ragazze domani è la giornata della scienza ci saranno due eventi molto speciali al campus il festival musicale per gli studenti e la lezione di robotica con la famosa scienziata n droid a che è fortissimo cristal tu balli benissimo sembri una professionista non è niente di speciale ascolta io e narvi abbiamo scritto un pezzo nuovo e domani lo suoneremo per il giorno della scienza ti andrebbe di occuparti tu della coreografia ma certo mi sembra un'idea fantastica e vai ti mandiamo subito il pezzo allora perfetto verrà benissimo una lezione di robotica ma è fantastico vorrei tanto costruire uno chef robot per le mie ricette di cibo sano io uno che mi taglia i capelli io voglio un unicorno skater robot oh non preoccuparti rim tu sei unico non ti serve uno skate ciao ragazze come va ciao cristal pensavamo di andare alla lezione di robotica di domani per costruirci un robot vieni con noi certo avevo qualcosa da fare ma non me la ricordo più andiamo sono sicura che non è importante ci divertiremo d'accordo ragazze allora domani ci robotizziamo non dimenticate i microchip che cosa dovevo fare concentrati cristal messaggio di narvi speriamo che il nostro pezzo ti piaccia oh lo ascolto che bella questa musica un momento questo qui era il brano per ah cristal è ora andiamo alla lezione di robotica chi andrebbe di occuparti tu della coreografia ma certo mi sembra un'idea fantastica ho promesso che avrei preparato la coreografia per domani ora che scusa mi invento per saltare la lezione di robotica mmm forse se ah mi è venuta un'idea oh menti ancora le sue amiche questo non va bene mi piace ah 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 cristal ti stiamo chiamando ahh Ow sono qua su accidenti hai un'aspetto terribile stai bene cristal credo di essermi presa a qualcosa mi sento molto male mimimimi mi miinja mii! guardate sembra che la jelly voglia divertirsi per favore non è il momento adatto mi sento molto male dobbiamo andare a dirlo a miscolletta Avete detto che ha dei puntini rossi e verdi sulla faccia? Oh no, non c'è dubbio, è un sintomo della febbre selvaggia La febbre selvaggia La febbre selvaggia della foresta è un virus molto strano Coloro che vengono infettati diventano selvaggi e fanno delle cose strane Una volta una ragazza si è arrampicata sull'albero più alto della foresta Ed è rimasta lì tutto il giorno ululando come un lupo L'hanno dovuta portare giù con un elicottero Apriamo le danze Ops, i dormitori sono di là E adesso è il momento di fare le prove Ehi, chi ha alzato il volume? Non funziona più Ma che cosa c'è che non va? Con tutto questo rumore mi scopriranno Aspettate, che cos'è? Viene dalla camera di Crystal, muoviamoci Crystal, va tutto bene? Che cosa? Solo un attimo fa l'abbiamo vista a letto ed era senza energie È strano Vuol dire che ha la febbre selvaggia della foresta Ah, che disastro Non si ferma neanche così Crystal! Oh, per fortuna siete arrivate Sono molto malata Certo, poverina Scommetto anche che hai la febbre alta Aha, lo sapevo Non sono vera È il momento di alzare il volume Come hai potuto, Crystal? Tu ci hai mentito Che state dicendo? Non riesco a sentirvi Ragazze Stiamo dicendo che tu sei una bugiarda Avviva la negatività Grazie a voi il mio potere aumenta Che cosa succede? Non ne ho idea I miei piedi si muovono da soli Vi piace? È la musica della negatività Ah, 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 ah Crystal, ti senti bene? È una febbre selvaggia Oh, no! Guardate i miei scolletti Che modo pazzesco di ballare Domani non si muoverà Ah, odio le vibrazioni positive Vediamo se così ridiranno ancora Oh, aiutatemi Non ce la faccio più Sono esausta Aspetta un attimo Su di te non funziona Giallicci, devi aiutare Devi far smettere la musica Mi dispiace, ragazze Non volevo venire alla lezione Perché dovevo finire di inventare una coreografia Per il giorno della scienza Non avrei mai dovuto dirvi una bugia Non importa, Crystal E comunque, siamo ancora in tempo Per la lezione di robotica Domani sarò distrutta Dopo aver ballato così tanto Eccole lì Io non le sopporto C'è ancora quella signora Signora? Io sono Sharon Qualunque sia il tuo nome È successo tutto per colpa tua Dai, ragazze, prendiamola Potere dell'omicidia Oh, quella luce Bene, per fortuna è finita Allora, vogliamo andare a lezioni oppure no? Sì, robotizziamoci Non vedo l'ora di conoscere La famosa scienziata Android Mi hanno detto che ha un braccio meccanico E che sembra proprio un robot Ehi, Crystal Come va con la nostra coreografia? Mi dispiace, ragazzi Non è ancora pronta Tornerò a lavorarci dopo la lezione Non preoccuparti Il festival è stasera Vuoi sentire com'è la versione finale? Wow Ha davvero un bel ritmo Hanno tutti la febbre selvaggia della foresta Devo scappare prima che sia tardi Festa al campus Oh no, il mio oroscopo dice che non sarà più popolare Sicuramente sto già perdendo follower Devo fare qualcosa Andiamole Di non prendere l'oroscopo troppo sul serio Buongiorno, futuri talenti Pronti a partecipare alle vostre lezioni preferite? Niente cellulari e niente feste serali Non sono consentiti Ho trovato! Darò una festa esagerata per riacquistare la mia popolarità Stasera festa? Sì, festa! Tutti al campus mi adoreranno Ciao, Daisy Ciao, Daisy Avete sentito della festa di stasera? Sì, non vedo l'ora di andarci Ehi, Shaq! Vieni anche tu alla festa! Oh! Sì, la festa! Non posso Ho qualcosa di più importante da fare Oggi voglio chiedere a Daisy Di andare a prendere un gelato Noi tre potremmo andarci insieme E poi magari potresti inventarti una scusa Per lasciarci da soli Beh, io preferirei andare alla festa Ma... Ciao, Daisy Ti va di andare a prendere un gelato insieme a me? Daisy, devi venire a cantare alla mia festa stasera Ma... Scusate, davvero non vedete l'ora di andare a quella festa noiosa? Noiosa? La mia festa? Non devi preoccuparti, Lady Puoi contare su di me Andiamo! Dobbiamo dirlo a tutti E voi due non pensate nemmeno di venire No! Aspetta un attimo Io volevo dire che... Oh, io volevo andarci Una festa? Questa è la mia occasione Farò in modo che la festa sia un disastro Le tenebre domineranno È ora di andare a letto E ricordate, niente feste non sono consentite Io adesso mi siedo qui a sorvegliare Andiamo, Shaq Forse se chiedi scusa inviteranno anche noi Che ci fate voi due qui? Non era una festa noiosa? Shaq ti vorrebbe dire una cosa Shaq? Sì, penso ancora che sia una festa noiosa Però c'è Daisy e quindi... Noiosa? Sei solo invidioso della mia meravigliosa festa? Volevo soltanto chiederti scusa Molto bene, allora finché non chiede scusa Lui non è invitato alla festa Invidioso? Noi faremo la nostra festa Scommetto che sarà molto meglio della tua Beh, staremo a vedere Che cosa voleva Shaq? Oh, niente Pronti a divertirvi? Sì! Mi presti la macchina fotografica? Ma certo Ho anche il mio kit degli scherzi Daisy, vuoi una foto? Oh! I ragazzi stanno facendo una mega festa Perché non andiamo a dare un'occhiata? Non ci penso proprio Nessuna festa può essere più divertente di questa Connie, alza il volume Diamo inizio alla festa Sembrano buonissimi, Connie Non so se mangiare quello al cioccolato o quello alla fragola Questo qua Penso che proverò a vivacizzare questa festa Sorridete! Dite cheese! Balliamo! Facciamo festa! Cantiamo! Non fermate il divertimento! Dremi, hai visto che cosa hai fatto? Non sono stata io Sono sicura che quello era uno scherzo di Crystal Mio? Tranquille, non è successo niente di grave Ci stavamo divertendo un mondo Ma tu hai mandato tutto all'aria Ma non sono stata io No, certo Per favore, ragazze, state rovinando la festa Vorresti dire che sono una bugiarda? Forse Allora io vado all'altra festa Crystal, no! Mi piace Sta a vedere Arriveranno presto Facciamo le luci da discoteca con la torcia Che succede? Aggiustalo! Va bene, va bene È facile Possiamo andare alla festa adesso Aspetta, arriva qualcuno Magari è Daisy Andiamo Oh, ecco dove eri finita Dai, non essere arrabbiata Sono sicura che Crystal voleva solo ravvivare la festa Guarda Sembra che qualcuno abbia messo un dolcetto nella tromba Quindi non era uno scherzo di Crystal Ora devo andare a cercarla Crystal, mi dispiace Lo so che non sei stata tu Guarda qualcuno ha messo un dolcetto nella tromba Qualcuno chi? Dobbiamo dirlo alle altre Perché si è fermato tutto Mi sento debole Sta succedendo qualcosa Ho trovato Sveglierò mi scollette che spellerà tutte dal campus per colpa della festa Ehi tu! Il potere delle collane Non mi sono addormentata Non mi sono addormentata Che state facendo? Noi le abbiamo portato a un cuscino Così può stare seduta più comoda Ah, d'accordo Wow, ma guarda un po' Sembra che alla fine tu ti stia divertendo D'accordo, hai ragione La tua festa è fantastica! Ehi, guarda! La festa è decisamente un successo Il mio livello di popolarità è al 100% Senti, Shack Ti voglio andare insieme a prenderci un gelato? Ops! Pronti! Nell'episodio precedente La risata è uguale a quella del mio incubo Anch'io mi ricordo Eravamo migliori amiche Perché i colori stanno tornando nel mondo Magic Tears Best friends forever Mi sto divertendo tanto con voi ragazze Sì, anch'io Ma forse ora dobbiamo tornare Stiamo avvantaggiando i ragazzi nella sfida I ragazzi, eh? Soprattutto Narvi, vero? No, intendo tutti i ragazzi, Crystal E se viaggessimo attraverso tutti i mondi Magic Tears Forse scopriremo cosa sta succedendo Io non voglio camminare I miei piedi da diva non possono fare un passo in più Ah, per favore Ma in che mondo vive Daisy? Ora basta, abbiamo votato Dovete capire che è meglio se torniamo indietro subito Saremo in un guaio enorme Primi, dai un'occhiata in giro Non vedi che c'è qualcosa che non va? È tutto spiadito A questo punto è evidente che c'è qualche problema in tutti i mondi E prima di tornare indietro lo dobbiamo risolvere Sì, è vero Per questo non abbiamo votato Di nuovo La stessa risata del mio incubo Di quale incubo stai parlando? Ho fatto un brutto sogno E sentivo una risata come quella dappertutto Forse è meglio non scoprire di cosa si tratta Possiamo andare adesso? Se avessi la sfera di cristallo di mia cugina Tina Potrei capire cosa sta succedendo E come andarcene via da qui Sì, andiamo A casa di Tina Cerchiamo la sfera, forza Andate pure, io vi aspetto poi Oh no, tu vieni insieme a noi Volare è troppo cool Che bello Cominciamo a cercare Guardate, questo è un ciuccio di diamante Quando eravamo bambine passavamo giornate intere a cercarli Sarebbe perfetto come ciondolo Ehi Preferivo il farfallino, stava benissimo con il cappello L'ho trovata Prendila, Phoebe Magica sfera di cristallo Mostrami che sta accadendo di male Se serve posso anche fare una verticale Beh, credo tu debba farla davvero Sì, ha ragione Bene, ora vedo qualcosa Sì, è una mela gigante Una mela? E dove possiamo trovarla? A tutti i frutti Mitch Andiamo? In che direzione? Quella è Nila Andiamo con lei Wow Devo dire che non me la ricordavo così Così Mussolente Deprimente È davvero terribile Guarda, ci sono tantissime jellies Oh, sembrano molto tristi Dai, fammi andare più vicino Forza, ancora un po' Non così tanto Non così tanto Jenna, vai più piano Ops, mi dispiace È una cosa disgustosa Questa probabilmente era una mela È impossibile trovare qualcosa qui Oh no, che cos'è successo? Il lago Lampone è marcito Vi ricordate quando abbiamo dovuto salvare Mel? Abbiamo bevuto quasi tutto il lago Era così buono Non come adesso E quando le jellies si sono intrufolate nella fabbrica? Sì, è stato un disastro Ma ci siamo divertiti a rimettere a posto tutte insieme Tutta questa amicizia mi fa sentire male Vi farò smettere di ridere presto Forse ho fatto un po' la diva Mi dispiace Siamo ancora amiche, vero? Sì, ma prima è meglio che ti accompagni alla spiaggia Così puoi lavarti un po' D'accordo Dobbiamo trovare la mela che abbiamo visto nella sfera di Tina Oh no, non ce la faccio più Io mi arrabbando Oh no! La mela! Ti prego resisti! Dov'è, Gianna? Serve qualcuno che voli? Non c'è tempo, presto Dobbiamo formare una catena umana Manca ancora un po' Coraggio ragazze, tutte insieme Dai, forza Dobbiamo resistere Ci sono quasi Oh no, il bravo! Altre! Uno, due, tre L'ho preso! No, Rima! Grazie per averlo salvato, Jenna Per fortuna stai bene Grazie, ragazzi Oh, guardate! E le collane! E sono tutti uguali Che piace! Best friends forever! Questa è la mia Tutti Frutti Beach Sono tornati i colori E c'è un buon profumo Tutti frutti Tutti frutti Cosa vuoi dirgli? Bidò Ho capito Adesso possiamo tornare indietro Certo Dovevamo solo essere di nuovo amiche E collaborare Come quando eravamo piccole Best friends forever! Anche se non mi spiego ancora Quella risata malvagia Che importa I colori sono tornati E noi possiamo tornare al campus Sono sicura che mi mancherai tanto Ma dobbiamo crescere Non possiamo restare piccole per sempre A presto, Snowy Forza Dobbiamo tornare indietro E vincere il premio Ma prima di andare Posso fare un ultimo volo Ciao A presto Fammi sapere Se succede qualcos'altro Vorrei che potessi venire con me Rim Sappiate che non è ancora finita Cosa? Ma quella non era... Ah, ma no Ciao Rim Mi mancherai tanto Trasformerò il campus In un luogo di oscurità E tenebre Rim? Rim! Wow Sei meraviglioso Ma cosa ti fai qui? Sbrigati, Dreamy Presto Vinceranno i ragazzi Se qualcuno scopre che sei qui Dovrai tornare indietro Presto Devi nasconderti Forza Siete in ritardo Ma non correte Uno, due, tre bandierine Abbiamo i nostri vincitori Il premio speciale va a voi Ragazzi Oh no, c'eravamo quasi Veramente ne avevamo una Non importa Adesso siamo di nuova amiche Sì, siamo le migliori E poi come premio di consolazione Ecco un po' di torta Un set di trucchi È questo il premio speciale? Beh, a me piace A me no Quello è il nostro premio Davvero? Allora prenditelo Ok, ora vedrai Mi piace questo posto Ho deciso che distruggerò questa amicizia No D.S.S. A casa! Guarda! E la mia era questa qui! Ne abbiamo fatte tante quando eravamo piccole! Possiamo andarcene adesso? Questo posto è noioso. Sì, siamo state qui quando eravamo bambine, però ormai siamo cresciute, quindi andiamocene. Hai ragione, questo posto non è più come prima e nemmeno noi. È evidente che siamo tutte cambiate. Cerchiamo Connie e le altre e torniamo al campus. Ottima idea! E poi siamo in testa alla gara! O forse adesso siamo scese al secondo posto? Un attimo! Guardate! Dobbiamo seguire le noccioline di Connie! Andiamo! Connie! 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 Connie, siamo qui! Sei davvero tu! Loro! Nila! Snowy? Ho sentito tanto la tua mancanza! Adesso mi ricordo tutto! Vivevamo a Magic Tears! Non ci vedevamo da tanto tempo! Io vivevo qui vicino, in un bellissimo igloo circondato dalla neve! E poi facevo sempre snowboard, come ora! E io vivevo a tutti i frutti beach! Dovremmo andare lì a berci un cry juice! Ah sì, erano deliziosi! Te lo ricordi, vero? E noi eravamo tutti amiche! Una volta Stella ha baciato Narvi! Sì, me lo ricordo! Non è vero, non se lo ricorda nessuno! Ah, cos'è? Una collana? Per me! Ehi, non mi segate! Non importa, Lulu! È il pensiero che conta! Sinceramente, mi mancava tutto questo! Anche a me! Dai, basta, Rim! Mi hai scambiata per un gelato! Che succede? Perché i colori stanno tornando nel mondo Magic Tears? Non è possibile! Che cosa? Non c'è campo! E ora come faccio senza il mio telefono? Però, hai detto che Rissu fa delle telefonate e che volevi staccare un po'? Beh, sì, volevo staccare un po', ma così mi sembra troppo! Devo occuparmi di faccende molto importanti! Ora torniamo indietro e andiamo a vincere il nostro premio speciale! Dovremmo vincere noi! Abbiamo una bandierina in più! Solo una bandierina? Non potete batterci! Mi piacerebbe visitare tutti i frutti beach, ma penso che sia meglio tornare ora o non riusciremo mai a vincere! No, non possiamo andarcene! Dobbiamo trovare il modo di far tornare i colori! Chi se ne importa di quella gara? Il mondo Magic Tears ha bisogno di noi! Ma non siamo più delle bebè! Allora possiamo risolvere la cosa da adulte! Mettiamola ai voti! Ok, va bene, sì! Chi se ne vuole andare, alzi la mano! Uno, due, cinque! Chi vuole rimanere qui, alzi la mano! Uno, due, quattro! Lala, cosa voti? Non so rispondere! Lala, non vorrei metterti pressione, però dipende tutto da te! Vuoi che restiamo qui? O che torniamo indietro, così vinceremo il premio speciale! Beh, in effetti direi che siamo praticamente adulte! Non voglio che ci mandino via dal campus e se si accorgono che ci siamo allontanate lo faranno! Sei voti contro quattro! Torniamo al campus! Ma io non voglio! Non mi piace il risultato! Ma è giusto così! Sì, e poi chissà, magari possiamo provare a tornare più tardi! Ehi, che cos'era quel suono? Rim, dove sono finiti tutti? C'è qualcosa di strano! Non è niente, è soltanto il vento! Forza, torniamo indietro! No, non è il vento! Questa risata è uguale a quella del mio incubo! Cuore a lato, fammi raggiungere l'altro lato! Aspettate! No! Non è il campus! Come andiamo via da qui? C'era un cannocchiale, se non sbaglio! Possiamo usare quello per cercare un altro portale? Proviamoci! Non ci stiamo tutte qui dentro! Non ci credo! Il mondo sembra sbiadito! Davvero? Fa vedere! Anche tutti i frutti bici! È terribile! Dobbiamo fare qualcosa! No, è meglio tornare indietro subito prima che succeda anche a noi! E come facciamo a tornare indietro, Genio? Va bene, va bene, calmatevi! Volete toccare la mia pietra che trasforma l'energia negativa in positiva? Ma ci sono altri portali! Prima voglio vedere se c'è qualche parte del mondo che ancora colori! Non spingermi! No, non spingermi! Non sono stata io! Nemmeno io! Ehi, stai muovendo il cannocchiale! Ma no! Ma sì, invece! Quella è la foresta di zucchero filato! Oh, Genna! No! Presto! La dobbiamo aiutare! Sì, ma come? Ma certo! Voi, fantasy, avete i poteri! Io credo di poter trasformare le cose in gelato! Tieni, Phoebe! Gelato speciale in arrivo! E questo è per Genna! Wow! E voi da dove sbucate? Quante cose state portando! Oh, ti ringrazio, Snowy! Oh, Faye! Pensavo di aver perso queste pietre! Sono meravigliose! Wow! Un fossile della montagna fantasy! Sì! Grazie, Betty! Devono essere deliziose! Chissà come sta la mia cara Tutti Frutti Beach! Grazie, Lulu! Ne avevo proprio bisogno! Vi ricordate la lacrima magica? Sì, era la cosa migliore del mondo! Per me la lacrima migliore era quella di Tutti Frutti Beach, con le gialli sbirichine! Oh, mi mancano tanto! Erano sempre contente! Anche a me! Ma nella foresta ce n'era una che sembrava preoccupata! Siamo venute qui per lei! Ci hanno sempre fatte stare bene! Questo mondo era... Era speciale! Davvero! Era tutto meraviglioso e profumato! Anch'io mi ricordo! Eravamo migliori amiche! Certo che lo eravamo! Oh, Rin! Così mi fai il solletico! Non sta andando come avevo previsto! Ma non mi sconfiggerete! È da un po' che non vedo le ragazze! Che combineranno? Continua! Di nuovo insieme! Svegliati, siamo arrivati al campus! Ho fatto un brutto sogno! Sembrava così irreale! Ehi, siamo arrivati! È semplicemente fantastico! Wow! Lo sai, cani? Ho la sensazione che qui viveremo tantissime avventure! Andiamo! Ti chiedo scusa! Non preoccuparti! Hai visto cosa è successo? È una cosa assurda! Non si sono neanche salutati! Non capisco! Può darsi che... Ciao, Narvi! Ciao, Ella! Ciao! Io me ne vado! Non si ricordano di noi! Forse perché siamo un po' cambiate! Wow! La cafeteria è super cool! E guarda! C'è solo cibo biologico! Ci saranno lezioni di cucina! Non vedo l'ora di aggiungere ricette al mio libro! Ciao, Dreamy! Ciao, Crystal! Non vi ricordate di noi? Giocavamo insieme quando eravamo bambine! Ha detto bambine? Beh, bel modo di cercare di fare amicizia, ma a me non interessano le cose da bambine! Oh, perché non possiamo essere amiche come allora? Dai, non pensare a loro! Noi siamo migliori amiche per sempre! Non rilasso altre interviste! Sono al campus per rilassarmi! Per sempre! Scusami, va tutto bene? Io mi chiamo Daisy! Sì, sì, piacere di conoscerti! Sono Shaq! Beh, allora ci vediamo a lezione! Sì, sicuramente! Ci vediamo in classe! Adesso io devo andare! Ciao! Ci vediamo a lezione! Oh, Shaq! Mi sentite? Sì, immagino che mi sentiate! Vi do il benvenuto al mio campus, cioè al Talent Campus, dove metteremo le ali al vostro talento grazie ai nostri corsi esclusivi e alla mia infinita pazienza! Una cosa importante! Ci sono delle regole fondamentali! Non si corre per andare a lezione e niente cellulari al campus! Ah, ci sono sempre delle regole! E adesso cominciamo con l'assegnazione delle camere! Speriamo di essere insieme! Dai, dai! Dreamy e Phoebe! Nella camera numero due Ella, Daisy, Stella e Crystal! Ok! Nella camera numero uno Lady, Lala e Connie! Evviva! È fantastico! Con Lala ci divertiremo un sacco! Io scelgo il letto per prima! No! Prima io... Volete vedere un trucco? Mi piace! È bellissima! E ha un profumo buonissimo! Carta, forbici e sasso per scegliere il letto? Carta, forbici e sasso! Sì! Ho vinto io! Scelgo il letto di sopra! Io... So fare un trucco! Finito! Che bello! Hai fatto un ottimo lavoro! Anche il tuo lato è molto carino! Guarda! Ecco Lala! Ditemi... È questa la carta questa? Va te pensando? No! Vuoi delle noccioline? Aspettate un attimo, forse era... Questa? Beh... In realtà, scusa, ma non ci hai detto di pensare a una carta? Lala è ancora super divertente! Una cosa importante! Se non volete essere rimandati immediatamente a casa, non dovete mai lasciare il campus! E ora, passiamo alle buone notizie! Questo pomeriggio ci sarà un grande gioco al campus! I vincitori riceveranno un premio speciale! Dobbiamo vincere! Quel premio deve essere nostro! Oh no! Questa volta ci hanno separate! È una cosa terribile! Tranquilla, è solo per questo pomeriggio! E in questo modo possiamo conoscere gli altri e parlarne insieme più tardi! Guardiamo il lato positivo! Oh... Va bene! Come ho detto, la prima squadra che arriverà alla fontana con le tre bandierine sarà la vincitrice! Per trovare le bandierine dovete risolvere gli indovinelli! Il primo è questo! Se la musica è nel tuo cuore, per cantare trova il posto migliore! E ora potete iniziare a cercare! Io dico di cercare sul palco! Ottima idea! Ricordatevi di seguire... Secondo me è l'ufficio di Miss Colleggi! Non ho intenzione nemmeno di fare un concerto! E se fosse la camera di Daisy, lei sa decisamente cantare? No! No e no! Non voglio cantare, mi voglio solo riposare! D'accordo! Possiamo prima cercare in un posto e poi nell'altro! Va bene, cominciamo dalla camera di Daisy! No, dall'ufficio di Miss Colleggi! L'ho trovata! Sì! Grande! Che facce buffe avete? È finta, era uno scherzetto! Non è per niente divertente, Crystal! Dobbiamo vincere quel premio! Ma quanto è noiosa! Ehi, guardate! Sì, ho la bandierina! Ti prego, Crystal, smettila! Oh, bravissima, Crystal! Ne abbiamo già una! Vinceremo di sicuro! Ehi, qui c'è un biglietto! Se il premio vincere vorrai, nel posto dove gli alberi coprono il cielo andrai! Nella foresta! Andiamo! Deve essere nell'ufficio di Miss Colleggi! Andiamo, io voglio vincere il super premio! Anch'io, per questo dobbiamo andare nella camera di Daisy! Aspettate, quella è... Oh, non posso crederci! Ragazzi, è una jelly! Te la sei immaginata! Le jelly non esistono! Scusate, ma di cosa state parlando? Sì che esistono! Non ve lo ricordate? È una lacrima magica! No, non può essere vera! Qualcosa non va! Sembra spaventata! Penso ci stia chiedendo aiuto! È il portale magico del cuore alato! Sì, certo! E io trasformo le cose in gelato come quando ero bambino! Ragazzi, quello è davvero un portale magico! Ma per dove? Beh, copriamolo! Aspettatemi! È fantastico! Guardate! Non sono le nozzoline di Connie! Un portale magico! È una cosa... meravigliosa! Dobbiamo riuscire ad attraversarlo! Ma come? Ci sono! Cuore alato! Fammi raggiungere l'altro lato! Che c'è adesso? Ti appunto una zanzara o qualcosa del genere? Non ve lo ricordate? Fa un passo di qua e fa un passo di là! Il portale fantasy di luce brillerà! Secondo te dove ci porterà? Lo vedrete! Vi piacerà un sacco! Continua! Grazie a tutti! T.S.S. Tutti ci conosceranno! Oh, sto per apparire in televisione! Deve essere tutto assolutamente perfetto! Dobbiamo riuscire a farci notare! Ci sono! Organizziamo uno spettacolo! Sì! Potrei cantare una mia canzone! E noi potremmo creare una coreografia! Sì, giusto! Ma dovrà essere spettacolare! Come quelle delle cheerleader che fanno la piramide! Oh sì, certo! Qualcos'altro? Una piruetta con doppio salto fino in cima? Che splendida idea, Lady! Mettiamoci al lavoro! Non abbiamo molto tempo! Mi hanno detto che la truppa arriverà oggi nel tardo pomeriggio! Devo fare moltissime telefonate! Devono venire tutti! Pronto? Sì, ciao! E adesso che facciamo? Le prove! Tu sai che questo è il tempo! Sì, lo so, sono grandiosa! Ci vediamo al malo fra dieci minuti! Va bene! Pensi che ci metteranno molto ad arrivare? Beh, spero di no! Certo, ovvio! Dovrebbero venire tutti quelli della truppa! Psst! Ehi, ragazzi! Siete pronti per lo spettacolo? Su, andate a provare! Aha! Uno spettacolo? Uno vero o una lezione? Non ne ho proprio idea! Prepariamo un numero di magia! E vai! Uno spettacolo? È l'occasione perfetta per scatenare il caos! Ahahahah! Ahahahah! Come on it is the time to feel Oh! Che bella coreografia! Bene, ci vediamo sul palco fra un paio d'ore per la prova costumi! Lady! Ricordati il salto finale! Uh! Sarai il sindaco? Sì, pronto, sindaco! E tu non balli? Beh... No, non sono brava a ballare! Però pensavo di preparare qualche biscotto per darvi la giusta carica! Ottima idea! Tu prepari i biscotti mentre noi balliamo e cantiamo che è la cosa più importante! Oh! Ora tocca a me! Ehi! Anche i biscotti sono importanti, Daisy! Uhuhuh! Sembra ci sia un litigio in arrivo! Non credo che questo sia il trucco più adatto! Commetto che le ragazze stanno preparando una cosa più semplice! Vere amiche! Vai, Lady! Eh... Non è un po' altino! Ma fa parte della mia performance! S... Sali! In che senso è la tua persona? Amiche! Oh, non resisterò ancora a lungo! Scusa, Tara! Lady! Scusami! Che disastro! Così rovinerete il mio spettacolo! Scusa, che cosa? Il tuo spettacolo? È la cosa peggiore che ho il mal di gola! Spero di non perdere la voce! Ciao, ragazze! Guarda, Daisy! Ho preparato dei biscotti allo zenzero! Fanno bene alla gola! Eh... Biscotti allo zenzero? Sicura che saranno d'aiuto? Provali! Anche i miei biscotti sono importanti! Sì, sì, certo! Fammeli provare! È piccante! La mia voce... Non ne fai mai una giusta! Cosa? Adesso basta! Me ne vado! Ce ne andiamo anche noi! Siamo stanche! Aspettate, ragazze! La truppa arriverà a breve! Ciao, ciao! Spettacolo! Molto bene! Cominciamo le prove! Prima esibizione! Ehi, ragazze! Prima ci siamo tutte un po' scaldate, vero? Avanti! Ce la possiamo fare! Proviamo ancora! D'accordo! Allora farò tutto da sola! Esercitatevi ancora! Potete fare di meglio! Shark, adesso fammi sparire! Eh, ma sono io quello che sparisce! Oh, è un vero disastro! Dovete provare ancora! E adesso, la mia più grande hit! La sua più grande hit? Ehi, un attimo! Perché voi non siete sul palco? Perché ho deciso di esibirmi da sola! Da sola? Non esiste! Ci serve assolutamente la coreografia di gruppo per lo spettacolo! Dovete esibirmi insieme! Voi ragazze sarete il gran finale! Ricordate, il futuro del campus dipende da tutti noi! Tra poco appariremo in televisione! Il campus è pieno di persone! Dov'è la troupe? Non riesco a vedere le telecamere in mezzo a tutta questa gente! Telecamere? Che mi sono perso! Le ragazze non si esibiranno! Non si rivolgono nemmeno più la parola! Ehi, chi ci fai con quella bottiglietta? Shadow! Peperoncino piccante! Shadow? Ragazze, è stata Shadow! Ha messo il peperoncino nei miei biscotti! Cosa? Ma quindi non sei stata tu, Connie? Oh, mi dispiace ragazze! Ero così nervosa per l'esibizione che ho dimenticato che l'unica cosa importante era esibirci insieme! Sono stata cattiva con tutte voi! Sì, un po', ma ora dobbiamo esibirci! Shadow non può averla vinta! E poi sapete una cosa? Insieme possiamo farcela! Best friends forever! E adesso diamo il benvenuto a Nardi e Jacques! Ora lo farò sparire! Ta-da! Beh, sembra che dovremmo cominciare con trucchi più semplici! Questo è un vero disastro! Balla! Cosa? Vivi! Tu sai che è il tuo momento! Tempo di sognare! Tempo di ballare! Noi sempre saremo! Amiche, amiche vere! Amiche, amiche vere! Amiche, amiche vere! Guardateli, ragazze! Quella è Shadow! Pronte per brillare ancora insieme? Potere dell'amicizia! No! Quella luce! È stato... incredibile! E quelle luci alla fine erano pazzesche! Ma è davvero strano che la truppe non si sia fatta viva! A con consegna! Che cosa c'è in quel pacco? È la TV! La nostra TV è arrivata! Ci guardiamo un film? Certo! Quindi la telefonata per la TV riguardava questa TV? Oh, ci guardiamo! médicazione Hope Zaand You know the sky is the limit inner sight dreams is to dance and we're as Profi truly, truly friends truly, truly friends TSS! La studentessa fantasma, parte 1 Avete sentito? Non abbiate paura Buongiorno, umani! Tranquilli, cari studenti, era solo uno scherzo di Halloween Mi scolletto, ovviamente Vi ricordo che la lezione di decorazioni di Halloween inizia fra poco Ehi, che forza, muoviamoci, ragazze! Ogni coppia dovrà fare un costume di Halloween con la carta igienica Dovrete usare la vostra fantasia, ma niente scherzi Cosa vi ho appena detto? Ovviamente dobbiamo fare una mummia Una mummia fatta con della carta igienica? Mi sembra un po' troppo scontato Dobbiamo essere più originali Il mostro delle nevi fa molta paura Io preferisco una mummia dell'antico Egitto È più esotica e per me è più spaventosa Mostro Mummia Mostro Mummia Mostro Chi sta litigando? È meglio la mia idea È quello che credi tu Oh, beh Il vostro litigio mi fa ricordare una storia misteriosa Che è successa al campus molti, molti anni or sono La storia della studentessa fantasma Faceva delle decorazioni impressionanti Voleva sempre essere la migliore Le sue zucche erano imbattibili Davvero perfette E poteva fare meraviglie usando un pezzetto di carta e qualche palloncino Lei lo sapeva Si sentiva superiore e disprezzava gli altri Non aveva amici Ma non le interessava perché lei era la migliore Finché non arrivò il giorno della gara di decorazioni Lei era convinta di vincere con la sua ragnatela inquietante Ma accadde una cosa terribile che non si sarebbe mai aspettata Il suo zaino con tutto il necessario scomparve misteriosamente In preda all'ansia cercò di farsi prestare il materiale Qualcuno può prestarmi un pezzetto di carta, per favore? Mi prestate le forbici? Ma nessuno voleva prestarle le sue cose Perché lei aveva sempre preso in giro tutti quanti La poverina non ebbe mai più amici E così fu lasciata per sempre da sola Da allora la studentessa ritorna al campus nella notte di Halloween Ogni anno dall'aldilà Per chiedere aiuto a qualcuno per finire la sua spaventosa ragnatela gigante Miss Collect Mi scusi, ma per quale motivo sta cercando di spaventarci? La studentessa fantasma? A me non sembra così spaventosa No, non fa paura per niente Mi hai spaventata! Era soltanto uno scherzetto Tempo scaduto Ci vediamo al prossimo laboratorio? Quindi è così che funziona? La studentessa fantasma? Mi è appena venuta un'idea 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 E' un lampone! Buono! I palloncini hanno cominciato a scoppiare E ho avuto paura Ragazze, non l'avete capito? Quello che è appena successo È collegato alla storia che ci ha raccontato Miss Collect Certo! La studentessa fantasma decorava le zucche e i palloncini Come i vostri! E i materiali che sono scomparsi, in effetti Sono gli stessi che servivano a lei Per finire la sua ragnatela gigantesca Io comincio ad avere un po' paura No, non devi I fantasmi non esistono Scommetto che è Miss Collect che cerca di farci uno scherzo Tu, tu, lo pensi davvero? Sì, lo penso e lo dimostrerò Miss Collect Abbiamo scoperto il suo piano malvagio Il mio piano malvagio consiste nel classificare la mia collezione di 500 statuine di porcellana Prima delle 6 di stasera Sono pesanti E voi mi state facendo perdere tempo con le vostre accuse Lei voleva farci uno scherzo con quella storia della studentessa fantasma Come se non avessi niente di meglio da fare Al momento sono troppo occupata Lo dimostri Ci dica dov'è stata oggi più o meno fra le 10 e le 12 Mi sta dando ordini dalle 8 di stamattina E come ha urlato quando una statuina stava per cadermi Sta attento! E voi, ragazzi? Finito con l'interrogatorio? Andiamo, Narvi, muoviti Allora chi ci ha fatto lo scherzo? La smetti, per favore E batti i denti così forte che non riesco a dormire Cosa c'è che non va, Ella? Ho paura E se arriva la studentessa fantasma Sono io Non riuscivo a dormire Non ci riesce nemmeno lei Ha troppa paura Il buio sta calando e vedrai Le ombre della notte scoprirai E sentirai la loro malvagità Ciao fantasma, sei buono o no? Se ci avviciniamo un po' paura avrà Perché sei qui, dovresti andare via È l'ora della studentessa fantasma Prima Ella batteva i denti e ora c'è questo rumore È impossibile dormire Non posso crederci, non posso crederci Il fantasma è sotto il mio letto Il fantasma Fantasma? Saranno solo degli effetti speciali Connie ha ragione Che cos'è quell'ombra? La studentessa fantasma! Il letto tremava Le cose volavano C'erano ragnatele Stavo per farmela addosso Aspettate, manca qualcuno Dov'è Ella? Continua Che cos'è biếtā Che cos'è a mia Che cos'è a mia La studentessa fantasma, parte 2 Ella! Ella! Sono le ragazze! Aiuto! La studentessa fantasma! Miss Collette aveva ragione! La studentessa fantasma è venuta a prendere una di noi! Non lo so, a me sembra tutto così strano Avete sentito anche voi? Nei film dell'orrore i fantasmi catturano sempre i protagonisti e li trascinano nel bosco È vero! Forse anche la studentessa fantasma ha portato Ella nel bosco! Ok, ecco qual è il piano Alcune andranno nel bosco, le altre resteranno al dormitorio Ma non sarebbe meglio rimanere unite? Nei film dell'orrore succede sempre qualcosa di brutto quando i protagonisti si dividono No, assolutamente no! È un'ottima idea! Troveremo Ella più in fretta se ci dividiamo E poi i fantasmi non esistono e io lo dimostrerò Daisy, tu vieni con me Oh no, 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 no! Non ho intenzione di tornare in quella stanza Ehi Lady, su, vieni con me! Andiamo nel bosco ragazze, dobbiamo trovare Ella Hai ragione, però il fatto è che abbiamo tanta paura State calme, ho il rimedio perfetto! Ciao, fantasma, sei buono o no? Se ci avviciniamo un po' paura avrò Hai ragione, Daisy, la musica aiuta molto Ah, lo so, le mie canzoni hanno un effetto calmante Gemma, che succede? Stai bene? Quando sono nervosa batto sempre i denti È molto strano Sembra che qui non ci sia nessuno A quanto pare Ella non è nel bosco Aiuto! Qualcuno accenda la luce, per favore! Ella! Ella, sei qui? Ragazzi, finalmente! È la studentessa fantasma! Vuole uscire dall'armadio! Ragazzi! Aspetta un momento Se è un fantasma, per quale motivo non attraversa semplicemente l'anta? È Ella! Oh, ragazzi! Eri qui dentro Tre fuori gioco Ora tocca alle altre Dolcetto o scherzetto? Ehi, che cos'è stato? Io ho sentito dormo sotto il letto Dolcetto o scherzetto? Cosa? Mangiate sul tetto? Mangiate sul tetto? Perché dovremmo? Dolcetto o scherzetto? La studentessa fantasma? Non era la studentessa fantasma Ma era Shadow Ma perché ci ha chiuso qui dentro? Cosa vuole? Non lo so, ma almeno siamo insieme Già, che bello! Mi stai schiacciando! Oh, mi dispiace! Ragazze, dobbiamo avvisare le altre Così ci aiuteranno! Urlate più forte che potete! Aiuto! Siamo qui! Siamo qui! Non dobbiamo dividerci per nessun motivo, capito? Sì, capito! Non preoccuparti! Connie! Guarda qua su, sull'albero! C'è nessuno? Ehi, un momento Dov'è finita, Connie? C'è decisamente troppa calma qui intorno Mi chiedo se stiano preparando un altro dei loro scherzetti di Halloween Ehi, ragazzi! Siamo qui! Aiuto! Niente da fare, è inutile! Non possono sentirci! Wow! Questo vestito è super carino! Ma sei seria, Lady? Adesso? Che c'è? Trovo sempre il lato positivo Eccovi un'altra amica Connie! Un attimo! Ci ha rinchiuse tutte dentro l'armadio? Già! Ma ci sono tanti vestiti super carini Lady, te l'ho già detto Non è il momento adatto Ragazze, restiamo unite Si sta facendo buio! Il buio sta calando e vedrai Le ombre della notte scoprirai E sentirai la loro malvagità Ciao fantasma, sei buono o no? Se ci avviciniamo un po' paura avrò Perché sei qui, dovresti andare via S-s-s-s-sero S-s-s-sero Cosa vuoi? No-no-no-no Fermarci non puoi S-s-s-sero Tu non vincerai L'amicizia è più forte che mai Aiuto, siamo qui! Ehi, avete sentito anche voi? Sì, vieni vada laggiù Sono le nostre amiche, dobbiamo trovarle Eccoci scendo Che vuoi spaventare Con le nostre amiche Non puoi più scherzare Scoprirai che l'amicizia trionferà Se restiamo unite Questo ti batterà Ciao fantasma, sei buono o no? Se ci avviciniamo un po' paura avrò Perché sei qui, dovresti andare via S-s-s-s-sero S-s-s-sero Cosa vuoi? No-no-no-no Fermarci non puoi S-s-s-sero Tu non vincerai L'amicizia è più forte che mai S-s-s-sero Cosa vuoi? No-no-no-no Fermarci non puoi S-s-s-sero Tu non vincerai L'amicizia è più forte che mai È lei! È lei! S-s-s-s-sero 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 Potere della Cisera! No! Ehi, Daisy, ti devo delle scuse Se non avessimo discusso su quale mostro creare Niente di tutto questo sarebbe mai successo Devo scusarmi anch'io Non c'era un'idea migliore dell'altra Erano soltanto diverse Beh, sembra proprio che finalmente riusciremo a festeggiare Halloween! Sapevo che sarebbe andato tutto bene Certo, certo, se lo dici tu, Ella Allora, chi diceva che la studentessa fantasma non esisteva e aveva ragione? Aspetta, stai dicendo che non ci hai mai creduto? Già Sei seria, Lala? Ma se sei stata la prima a scappare via? Oh, ehi, Daisy Posso prendere in prestito qualcuno dei tuoi vestiti? Ne hai alcuni carinissimi Certo che sì, tutti quelli che vuoi Sono la studentessa fantasma! Datemi le vostre decorazioni di Halloween O vi porterò nell'aldilà! No! No! Oh, adoro Halloween! Oh, 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 oh Le foto per l'annuario E così? Vengo bene così? Oh, sì! Dai, ragazze, muoviamoci! Andiamo alla caffetteria! E tu continua con le pose, Shack, sei molto buppo! E' arrostito! Che carino, tu gli piaci molto! Non è affatto vero! Era ora di fare un po' di pulizia! E' stato divertente! Guardate cosa c'è qua! Qualcuno ha buttato via un mucchio di libri! Stai pensando a quello che sto pensando io? Voglio ordinare un avocado tosta! Siamo qui, ragazze, venite! Mamma mia, che confusione! Sono curiosa di sapere di chi era questo! E' troppo divertente! Chissà in che anno sono state scattate queste fotografie! Wow, guardate che fettinatura! Ma chi è quella? Non ne ho idea, ma sembra un po' triste! E quell'outfit non le dona per niente! Aspettate un momento! E' Miss Colette! E' l'annuario di Miss Colette! Impavvedibile! E' vero! Adesso ho capito perché quella posa mi ricordava qualcuno! D'accordo, Daisy! Non tutti posano bene come te, si vestano bene come te! Oh, mi è venuta un'idea fantastica! E se... Creassimo l'annuario del campus? Sì, è un'ottima idea! Narvi ha una macchina fotografica! Sono sicura che i ragazzi ci aiuteranno! Andiamo? Sì! Ma che strano! Nessuno gliel'ha firmato e Miss Colette non compare nella foto di gruppo! Poverina! Vuol dire che non aveva amici! Ecco spiegato perché... Oh! Ma che succede? Cosa? Che cosa stai facendo con questo? Ti devo mettere in punizione! Vai in classe! No! Nel tuo dormitorio! Subito! Non voglio passarci di nuovo! E questo che cos'è? È un annuario che stanno combinando! I ragazzi ci aiuteranno con le foto, che carini! Ora dobbiamo solo prepararci! Wow! Adoro il tuo stile! Mi presti qualcosa per le foto? Sono sicura che starei benissimo! Ti vado a insegnarci a posare, Daisy? Sì, anche a me! E a me! Ma certo! Porterò tutto sul set fotografico e vi insegnerò a posare! Ci vediamo sul palco! Ehi, Daisy! Grazie davvero per l'aiuto! Figurati, a questo servono le amiche! Ragazzi, sono venuta a proporvi un'idea che ho avuto! È per l'annuario! Che cosa ne direste se... Sono così agitata! Come fate a essere calme? Per fortuna Daisy ha detto che ci presterà i suoi accessori! E ci insegnerà anche a posare! Questa è una... vera tragedia! Non mi passa il... Sighioso! Rilassati! Saremo bellissime, vedrai! Sì, farò in modo che siate bellissime! Dai, Daisy, concentrati! Ora, tocca a te! Prima di cominciare con le foto, volevo chiedervi una cosa! Che ne dite se per l'annuario noi... Sono qui! Sul serio? Wow, è davvero brava! Daisy, hai preso tutto l'occorrente per le foto! Ma certo! È qui, nella valigia! Aspetta! Che cosa sono? Io questi non me li metto! Pronte? Chi è la prima? Io! Cominciamo pure! Voglio darvi qualche consiglio per posare come delle autentiche star! Sì, certo! Questa posa si chiama spalle avanti! La posa vittoriosa! Indietro col bacino! È fantastica! Non vorrei mai smettere di fotografarla! Ok, ora tocca a voi! Allora, vai tu! Fammi un bel sorriso! Puoi farcela! Perfetto! Non resisto! Alza di più la gamba! Dai, dai, dai! Muovila di lato! Levati subito! Che succede? Coraggio, Lady! Puoi farcela! Dai, cominciamo! Mettiti in posa! La mano sul fianco! Bacino in fuori! La fotocamera ti adora! Basta! Non mi va di continuare! Come mai ci hai mentito? Volevi essere bella solo tu e ci hai dato degli accessori orrendi! Ma che cosa stai dicendo? Non sono stata io a mettere quelle cose nella valigia! Oh, certo! Sarà stata un fantasma! Dico sul serio, ragazze! Non so cosa è successo e non capisco! E in un momento, quella è... C'è l'ho! Andiamo! È stata a sedo! Tu hai scambiato la mia valigia! Certo che sì! Era troppo divertente! Vedrete che fotografie! Stavolta non te la caperai! Non ti permetterò di rovinare il nostro annuario! O la nostra amicizia! Povero l'amicizia! Sono così stufa di mori! Daisy, non dovevamo dubitare di te! Ti dobbiamo delle scuse! Va tutto bene! Noi siamo best friends forever! E nessuno potrà mai cambiarlo! Comunque, ragazze, vorrei farvi una proposta! Ciao, ragazze! Non posso crederci! Sarete curiose di vedere le foto! Oh, mamma, sono un mostro! Ma ho il baffo! Ma com'è possibile? Anche Daisy è venuta male! Scommetto che c'entrascedo! Ciao, ciao, annuario! Secondo me sono grandiose! Shuck, mettiamoci in posa! Sono forti! Daisy, sei venuta malissimo! Me lo firmi? Certo! Ora abbiamo un bellissimo ricordo, grazie a Miss Collette! Infatti, vi volevo parlare di questo! Che cosa ne pensate se... Ho avuto un'idea! Perché non diamo a Miss Collette un annuario con le nostre firme? Sì, grande idea, Lady! Sei una migliore! Scusami, Stella, che stavi dicendo? Niente, ora andiamo da Miss Collette! Sì, andiamo! Miss Collette, le abbiamo portato un regalo! Ecco, è il nostro annuario con tutte le nostre firme! Un annuario? Ma io non voglio una... Oh, che carino! Siete tutti molto buffi! Dai, facciamo una foto di gruppo con Miss Collette! Sì, e l'hovo a passare! Sì, c'è! Sì, c'è! Sì, c'è! Sì, c'è! Sì! We always will be truly, truly friends, truly, truly friends. TSS! Elezione al campus. Strano che Miss Collette non abbia ancora parlato al megafono oggi. Già, starà spolverando la sua collezione di animali di porcellà. Buongiorno, cari studenti. Come se ci avesse sentite. Il presidente del campus è... alle Hawaii per fare un corso di surf. Perciò dobbiamo trovare subito un sostituto. Un corso di surf? Oh, certo. Chi verrà eletto avrà il grandissimo onore di farmi da assistente. Riceverà buoni pasto, avrà diritto a frullati gratis e potrà scegliere la musica per la radio del campus. Cibo e frullati gratis? Se siete interessati, lasciate i moduli per la candidatura nel mio ufficio. Essere presidenti è fantastico. Così si può davvero fare la differenza. Io mi candido di sicuro. Anche io. E anch'io. Che cosa tutte e tre? Sapete già che vincerò io. Io non credo. Voteranno tutti per me perché sono la migliore a risolvere i problemi. Vi sbagliate entrambe. Voteranno per me. Ah, sì? Staremo a vedere. Interessante. Queste elezioni stanno scaldando l'atmosfera. È grandioso. Abbiamo ben tre candidate. Beh, diamo inizio alla campagna. Ora voterete una presidente che sarà il cambiamento che servirà. Vota l'ala. Vota l'ala. Super divertente. Vota a Phoebe. Lei è calma e cool. Vota a Jenna. Problemi non avrai. Questo è il momento di votare chi vorrai. Sarà una presidente che non scorderai. Se voterai per me, ti insegnerò lo yoga. Sei pronto? Se voterai per me, vedrai un po' di magia. Non è fantastico? Se voterai per me, tante storie sentirai. In biblioteca! Tante nuove idee per un campus così. Se vuoi una svolta, devi dire sì. Oh no, la mia statuina di porcellana preferita è sparita. Mi ricordava tanto la mia gattina. Era un pessimo inizio per questa campagna elettorale. La cosa che mi manca di più di lei è quando mi portava le pantofole. Ed era sempre così tranquilla. Dormiva sotto il mio letto e mangiava tutti gli avanzi. Non starà parlando della vecchia presidente? Dormiva sotto il suo letto e le portava le pantofole. Io non voglio fare niente di tutto ciò. Ho paura che candidarsi non sia stata una grande idea. Pensate quello che penso io. Miss Collette, non vogliamo più candidarci alle elezioni. Ci ritiriamo. Grazie di tutto. Non così in fretta. Una volta candidate, non ci si può ritirare. Ma, ma... Su, ora basta con le sciocchezze. Mi farete arrabbiare. E voi non volete vedermi arrabbiata, vero? No, certo che no. Già, come pensavo. Ah, ricordate che domani è il giorno del dibattito. Perciò non dimenticate di consegnarmi la busta con tutte le vostre proposte. Non saremmo in questa situazione se tu non avessi avuto la brillante idea di candidati. L'idea è stata di Phoebe. Non è vero, è stata tua. Bravissimi ragazzi. Continuate a litigare. Così finalmente potrò mettere in atto il mio grande piano per distruggere la vostra sciocca amicizia e farvi espellere dal campo. Stavola! E va bene, la mia proposta è di raddoppiare le lezioni. Uniforme obbligatoria per tutti quanti. Vietato ridere e scherzare. In questo modo perderò di sicuro. Questo è ciò che pensate voi. Ma il piano che ho ideato io è molto più geniale. Oh, sono così cattiva! Oh, ecco dove eri finita! Pensavo di averti persa! Ciao, micina mia! Diamo inizio al dibattito! Jenna è la candidata ideale. Ha sempre ottime idee. Oh, non scherziamo. Tutti sanno che l'ala è la più simpatica. No, la migliore è Phoebe, che fa andare sempre tutti d'accordo. Non capisco che cosa vi sia preso, ragazze, ma... Adesso leggerò le proposte delle nostre tre candidate. Cominciamo con la proposta di Phoebe. E dormire sarà lo sport ufficiale del campus. Inammissibile! Ma non è quello che ho scritto io! La proposta di Jenna è di chiudere la biblioteca e creare un locale pieno di dolci con muri di zucchero filato da mangiare. Ma che razza di proposta è? Cosa? Scommetto che è colpa tua! E la proposta di Lala è di dare un telefono a ogni studente. Ma non sono permessi a lezione? Avete cambiato la mia proposta! Sono tutte proposte grandiosi! Ma che gran confusione! Sono sempre io la migliore! E se sono fortunata, vinceranno tutte e tre! Chissà come andrà a finire! Ci siamo quasi! Manca soltanto una cosa! Ovvero contare i voti! La nostra nuova presidente è... Un momento... Oh, c'è stato un pareggio! Che cosa? Un pareggio? No! E la vincitrice è... Shadow! Shadow! Ho capito! Scommetto che questa è opera sua! Ok, è ora di mettere da parte la rivalità! Già, adesso dobbiamo unire le forze per sconfingerla! Forza ragazzi, fermiamola! Potere dell'amicizia! Basta, non vi sopporto più! Sì! Siamo le migliori! Best friends forever! Ecco la soluzione! La carica andrà a tutte e tre, ma farete dei turni, ok? Scusi, Miss Colette, ma non vogliamo più essere presidenti! Esatto! E non ci importa se si arrabbierà! Non ci interessa mangiare i suoi avanzi e portarle le pantofole! Portarmi le pantofole? Ho capito! Oggi è il giorno della follia e nessuno si è degnato di avvisarmi! Ma l'ha detto lei al telefono! Eh? Ah! No, avete frainteso! Non stavo parlando dell'ex presidente! Stavo parlando della mia gattina, che adesso vive con mia nipote! Oh, ok! Beh, allora non vedo il problema nel fare i turni come presidenti! Giusto, ragazze? Al campus non ci sono mai state tre presidenti insieme, tantomeno tre presidenti amiche! Dove sono i telefoni? John? E le amache per dormire? Vogliamo il locale pieno di dolci! Accidenti! Scappiamo! Ehi, tornate subito qui! Miss Colette! Non ci abbandoni così! Temo dovrete cavardela da sole, è l'ora della videochiamata con la mia dolce micina! Ma aiuto! A casa per Natale! Ce ne sono andati tutti! Il nostro è l'ultimo busto della giornata! Ci vediamo! Non vedo l'ora di mangiare i biscotti di Natale di papà! Io voglio giocare a palle di neve! Io non vedo l'ora... Regali! Fai attenzione! Regali di Natale! Sì! La la la! La la la! Io voglio cantare i campi di Natale! La 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 la! Buone vacanze, Shack! Buone vacanze a te, Daisy! Grazie! Sì! Finalmente! Buon Natale! Buon Natale! Woohoo! Cattive notizie! C'è stata una grossa nevicata che ha bloccato le strade e il bus non riesce a raggiungere il campus! Questo vuol dire che passeremo il Natale insieme al campus! Nooo! Ma qui non ha nemmeno nevicato! Addio, biscotti! Addio, battaglia di neve! Addio anche ai regali! Ma perlomeno siamo insieme e siamo best friends forever! D'accordo, ora cercate di rilassarvi, per favore! Passeremo il Natale lontano dalla nostra famiglia, qui al campus! Sì, non è meraviglioso? Dai, ragazze! Possiamo fare tutto quello che vogliamo! Cucinare, fare decorazioni, cantare! Ehi, tu! Quel vischio è mio! Aspetta, aduna indietro! Daisy ha ragione! Passare il Natale qui al campus non sarà poi così male! Ci divertiremo! Canteremo i canti di Natale! Chi ci sta? Io sì! Anch'io! 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 No! Che vuol dire che rimanete qui? Allora farò in modo di rovinare il vostro Natale! Yiii! Ridami il vischio, mi serve! È per una buona casa! Vi ho mai detto che nel 1999... Ha scritto un canto di Natale per la sua città! Sì! Beh, chi vuole iniziare a cantare? Vorrei cominciare io, se siete d'accordo! La la la! Perfetto, Crystal! Mi ha ispirata! Scriverò un nuovo canto! Mi ricordo di quando, nel 1999... Ha scritto un canto di Natale per la sua città! Secondo te avremo dei regali domani? Può darsi! In fondo si sa che è tutto possibile a Natale! Che cos'è quello? È vischio! Secondo la tradizione, se qualcuno riceve un bacio sotto il vischio, troverai il vero amore! Ciao, ragazze! Io spero che nevichi tanto! Io spero che canteremo tanti canti di Natale! Io spero di ricevere il mio primo bacio! Buonanotte, ragazze! Buonanotte! Che cosa sono? Mi è venuta un'idea per questi regali! Giusto quello che mi serviva! Questi regali sono pesantissimi! Penso che me ne sbarazzerò domani! È Natale! È Natale! Regali! No, non è possibile! Non c'è nemmeno un regalo! È un vero disastro! Secondo me stai esagerando! Certo, e ora mi dirai che il miglior regalo è... Essere qui con te insieme! Esattamente! Sì, però non sta nemmeno nevicando! Ehi, ragazze! E se cominciassimo a cantare? Io non ne ho voglia! Nemmeno io! Adesso devo soltanto sbarazzarmi dei regali! Oh no! Ho dimenticato il cappello! Il primo bacio è così difficile! Im, sei qui? Che cosa? Shadow? Vuoi dire che è stata lei? Forza, Rim! Corri, dai! Diciamolo a tutte! Forza, forza! Non è Natale senza albero! Non possono mancare la neve e i regali! E con tutta la famiglia noi festeggeremo! Non mi convince del tutto la parte del coro! Devo scriverla da capo! Aspettatemi qua! È Rim! È successo qualcosa! Quanto pesa! Devo sbrigarmi prima che mi scoprano! Devo concludere il mio super piano rovina Natale! Ehi, tu! Smettila immediatamente! Shadow, non ti lascerò portare i miei regali! E chi mi potrà firmare? Tu sei qui da sola! Perché sai, non vali niente senza le tue amiche! Ti sbagli! La nostra amicizia è più forte di un brutto Natale! Shadow, ridacci i regali! Rovinerò il Natale e anche la vostra amicizia! Non lo permetterò! Dove sono le tue amiche? Qui! Non ti lasceremo rovinare il nostro Natale! Né la nostra amicizia! Non può essere vero! Il mio piano era perfetto! Potere dell'amicizia! Oh! Quella luce! No! Tornerò! Ok! No! So much fun to put the lights up, wishing a Merry Christmas to everybody, loving anyone who is in need, and toasting to peace. Decorate the campus with a million colors, bringing different flavors to a dinner table, candy cane, gingerbread and wrapping paper. Cosa sta facendo? È la tradizione! Devo darle un bacio? Ah-ha! Oh, che carini! Wow, sta iniziando a nevicare! Telfi! Buon Natale! It's a celebration time with all your friends. You don't love this is. This is a different Christmas. Merry Christmas! It's a dream. It's a dream. It's a dance. And we always will be truly, truly, friends. Truly, truly, friends. T.S.S. Fuggi via, Rim! Non farlo, Stella. Così lo spaventerai. Agli animali non piacciono i rumori troppo forti. Calmati, Dreamy. Sono solo fuochi d'artificio. È tutto ok. Sarà un vero spettacolo. Vedrai. Sono fuochi d'artificio, quelli? Chi li sta sparando? Visto, di sicuro Rim non se ne accorgerà neanche. Ehi, ragazze! Sta tranquillo, Rim. Calma, ti va tutto bene. Ops. Forza, Narby. Continua così. Ce l'hai quasi fatta. Era un unicorno, quello. Ehi, ti va un'altra partita? Sì! Quando avrò scoperto chi... Aspetta, Rim! Torna qui! Ho un'escollette, sta bene? Sì, grazie. Ma era un cavallo travestito da unicorno? Sono appena stata travolta da un cavallo travestito da unicorno! È probabile, perché gli unicorni non esistono. No, certo che no. Comunque, se scoprirò che avete a che fare con quei fuochi d'artificio, sarete tutte espulse. Espulse? Mi piace. Non possiamo più nascondere Rim. Sì, invece. Lo nasconderemo meglio e soprattutto non spareremo più i fuochi d'artificio. Ma noi vogliamo spararli ancora. Beh, non lo faremo, spaventano Rim. Ma non è giusto. Trovate una soluzione per non farlo spaventare, così potremo sparare dei fantastici fuochi. Non preoccuparti, Rim. Troveremo una soluzione. Ehi! Ce l'ho io la soluzione! È ora della sveglia! Oh, sole mio! Niente. Ma che zoccoli grandi che hai! Mi è appena venuta una grande idea! La signorina Dreamy e le sue compagne d'avventura sono richieste in caffetteria immediatamente. Cosa è successo qui? Sembra proprio che il vostro amichetto sia passato di nuovo da qui. Cosa? Sì. Ma, miscolletta, è impossibile! I cavalli non camminano sul soffitto. Sì, beh, come vedi ha lasciato impronte dappertutto. Mi è bastato seguire la pista per trovarlo. Oh no, Rim. Ho già chiamato il centro di recupero della fauna selvatica. Verranno a prenderlo questa sera, subito dopo i fuochi d'artificio. Non è giusto! Gli animali devono vivere liberi! Ormai ho deciso, basta discutere adesso. Dobbiamo liberare Rim. E noi saremo felici di aiutarti. Ci dispiace, Dreamy, ma non vogliamo essere espulse. Dobbiamo andare. Ma ragazze! E ora cosa facciamo? Ci sono! Mi è venuta un'idea! Avvicinatevi! Mmm, chissà che cosa stanno tramando. Oh no! Non facciamoci sentire! Nardi e Shack dovrebbero arrivare tra poco, state pronte! Miss Collect! Miss Collect! Non stavo dormendo! Qualcuno sta toccando i fuochi d'artificio! Cosa? Impossibile! Ho detto chiaramente che era vietato! Torno subito! Ce l'hanno fatta! Bene! Su, andiamo! Adesso vedrete! Mi sento un po' in colpa per poco fa. Dopotutto, Rim è nostro amico. Sì, hai ragione, ma guarda quanti disastri ha fatto. Il mio piano è perfetto! Mi sembra di conoscere questa voce. Lascerò impronte ovunque, così Miss Collect vi espellerà tutte! Oh, quindi c'era il suo zampino! Dobbiamo avvisare Dreamy! Andiamo! Ce l'abbiamo fatta, Rim! Ora sei libero! Espulse in 3, 2, 1... Dove sei, cavallino? Sto seguendo le tue impronte e non mi scapperai! Oh no, è Miss Collect! Devi fuggire, Rim! Ci rivedremo presto! We must protect each other You gotta hide from people that are mean Go right free just like the wind Cause I will be by your side I'll come get you at any time My friend, Rim, Rim, Rim Will always get me I know he will never let me down My friend, Rim, Rim, Rim Is my best friend for sure I will never leave him on his own My friend, Rim, Rim, Rim Is my faithful unicorn Always helping everybody else My friend, Rim, Rim, Rim I will never forget I love him so much Cause he's the best I love him so much Cause he's the best Potere dell'amicizia! Oh no! Non di nuovo quelle luci! Ah! Ben fatto! Sì! Eccovi qui! Avete disobbedito a molte regole del campus Avete portato un animale, avete corso e avete toccato i fuochi d'artificio Miss Collect, il cavallo se n'è andato Se segue le tracce vedrà che ha lasciato il campus Non importa, mi dispiace, non ho altra scelta se non espellervi No, la prego! È tutta colpa mia, espella solamente me Ho portato io il cavallo Non lo faccia di certo, possiamo trovare una soluzione Sì, possiamo lavorare per punizione Pulire le aule E magari preparare dei pranzetti deliziosi per tutti O farle dei bei massaggi rilassanti Ne siete davvero sicure? È una cosa terribile Forse era meglio essere espulse dal campus Coraggio, Dreamy Ho corso per il bosco tutto il giorno a causa tua Ho i piedi appelsi Ho i piedi appelsi Ho i piedi appelsi Cazzo al ladro Trovato! Rin! Ti ho cercato dappertutto! Tieni, l'ho preparato durante la lezione di cucina Tutti gli ingredienti sono biologici Ti piace, eh? Te ne porterò ancora No, Rin! Sai che non puoi venire con me Nessuno deve vederti Un miscolletto ti caccerà dal campus Appena potrò, te ne porterò ancora Ora devo andare Ci vediamo domani, Rin! Buongiorno, domani è il giorno delle visite Tutto dovrà essere perfetto Il cibo che ho preparato per i visitatori è squisito Ricordate di tenere il cibo al fresco Nel frigorifero della caffetteria E non dimenticate Controllate che il frigorifero sia alla giusta temperatura E che il cibo sia tenuto al fresco per i nostri ospiti Tre, due, uno Per essere forte, mangia sano E per tutto il giorno sarai un uregano Ciao ragazzi Avete visto delle mele in giro? Sono giorni che non ne trovo No, e non sono l'unico cibo scomparso Perché sono spariti anche un bel po' dei miei cupcake Io invece credo che qualcuno mi stia spiando Qualcuno con i capelli colorati Cosa? Sei sicura? Non starai esagerando un po'? Tu come spiegheresti le ombre che vedo dalla finestra? Forse è un tuo fan Oh, a quanto pare ti piace avere segreti con le tue amiche Beh, credo che ora mi divertirò un po' Mi assicurerò che il cavallo venga cacciato e che tu lo segua I miei cupcake sono spariti Qualcuno di voi ha visto le mie fragole? E dove sono le mie mele? Ah! Qualcuno ci sta derubando? Avanti ragazzi, di certo sarà... Dobbiamo catturare il ladro Bene, è ora di trovare quel ladroncolo Ci divideremo in tre squadre E la squadra A controllerà i food truck E la B controllerà le stanze E la squadra C? Sì, eccoci qua! Con noi tre il cibo è al sicuro Sì! Cercate di non fare danni, va bene? Ragazzi, io... Io devo andare a... Ecco... A posizionare le trappole per il ladro Rima! Rima! Oh, poverino! Devi nasconderti! Stanno cercando il ladro che si è mangiato tutto Ti scopriranno! Squadra A! Con me! Il ladro deve essere nascosto qui da qualche parte Squadra B! Sono certa che il ladro sia nascosto laggiù! Mi dispiace, sarà soltanto per un po' Userò dei torsoli di mela per creare una pista falsa In modo tale da depistarli Poi penserò a un posto migliore in cui nasconderti Seguitemi, il ladro si trova qui, me lo sento Oh no, sono già arrivati! Ehi, guardate! Torsoli di mela! Ci siamo! Il ladro deve essere qui dentro Andiamo! Lì non mi troveranno! Questo è ciò che credi tu? È così buio qui! Le tracce portano lì Il ladro deve essere dietro quella porta Aspetta un attimo Non possiamo entrare, non è permesso! Ma il ladro deve essere lì dentro! Forza, andiamo! Aiutatemi! Oh no, stanno per entrare! Devo fare qualcosa! Su, spingete! Dreamy? È ora che cali l'oscurità! Oh, grande! È andata via la luce! Dreamy? Sei tu il ladro! Hai rubato tu le mele! E che mi dici dei miei biscotti? Aspettate, non sono stata io! Posso spiegare? Ehi, un momento! Se è andata via la luce significa anche che... Il frigorifero non funziona! Oh no! Così andrà male! Aspettate un attimo, ragazze Vediamo un po' qual è il problema Il generatore non è rotto Era solo scollegato! Sì, mistero risolto! Ma... Come facciamo a sollevare il generatore? Mmm... Questa è un'ottima domanda Vediamo Dreamy? Rim? Sei davvero tu! Wow! Sei grandissimo! E cosa ci fai qui? È per questo che ho preso le mele Per darle a Rim Ma non so niente sugli altri furti Siete arrabbiate con me? No, ma perché non ci hai parlato di Rim? Temevo avreste cercato di mandarlo indietro Perciò l'ho nascosto Dreamy, Rim è fantastico! Non c'è nulla di male se volete restare insieme Dite sul serio! Certo! Vi adoro! Forza, Rim! Solleva il generatore! Sì, è bellissimo! Ce l'abbiamo fatta! L'oscurità inghiottirà il campus E voi non la fermerete Ancora tu! Quel cavallo non rovinerà i miei piani Rim è un unicorno Il più forte di tutti E il più bello di tutti E ha un grande appetito! Noi lo proteggeremo Perché è il nostro amico Potere nell'amicizia! Di certo è stata Shadow A rubare tutte le nostre cose Ci dispiace, Dreamy Tranquilla È tutto ok Dobbiamo pensare a dove nascondere Rim Miss Collette non deve sapere Che è nel campus Il cibo per gli ospiti! Era tutto buonissimo Il cibo è al sicuro Nelle nostre pance! Guarda! Ora funziona di nuovo! Credi finiremo nei guai Per aver mangiato tutto? No! Attenzione studenti! Spero sia tutto pronto Perché gli ospiti arriveranno Fra 15 minuti! No! Che buono! No! Grazie a tutti.